Ma guardate, non mi dite che un fatto di moralismo, di altro, non mi dite che questi fanno per vocazione o altro, cioè non è una bella cosa, troviamo un'altra soluzione, un'altra cosa, giusto per zona da salaria, sono giovani, vi ripeto, non mi dite che fanno per vocazione o partono, insomma, trovate un altro modo, ma che ne so, cioè, ma fatemi una pugnetta, non lo so, proprio, mi sembra che Cioè, proprio qua, se mi è diventato un popolo dei puttanieri, insomma, adesso non voglio fare moralista, però ripeto, io penso che tutti avvicini alla giovane, questi sono arrivati in Italia, non si sa come, è una situazione che onestamente io non riesco proprio a considerare in modo diverso, ecco, quindi, io mi metterò in regolata da questo punto di vista, poi ognuno c'è i propri modi di pensare, scusatemi un po' sta denigrazione, anzi, Spero che mandate a letto i bambini, perché non mi sembra il caso, adesso di continuare a parlare d'altro, però, ripeto, è una situazione che a Roma si vede sempre più spesso e non è per niente bella, ecco